Cetutti bentornati, Siete pronti per una nuova esplorazione londinese? Oggi siamo al Canary Wharf e vi porto a visitare un festival che si chiama Winter Lights. È un festival invernale che illumina l'area del Canary Wharf con delle opere d'arte, delle installazioni luminose. Qui ci troviamo nel parco e visitiamo quest'opera d'arte che rappresenta una poesia, una poesia fluttuante. Dall'altra parte ci sono degli angeli. È il terzo anno che questa manifestazione si svolge qui, dal 16 al 27 gennaio. In questo parco ci si diverte appunto con queste luci e ci si fanno delle foto. E qua per esempio ci sono i bimbi che giocano a nascondino tra queste colonne luminosissime. Ogni zona del Canary Wharf riserva qualche sorpresa luminosa ed è tutto così molto interessante, particolare, a volte straniante. E io poi termino questa mia passeggiata con una visita alla pista di pattinaggio perché c'è anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e anche questa è una pista di pattinaggio tutta colorata e appunto i colori cambiano continuamente. Sembra quasi una discoteca, non so. E niente, spero che questa passeggiatina insieme a me in questa notte invernale fredda piena di luci vi sia piaciuta. Ci vediamo al prossimo video. Se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale e se mi lasciate un commento io vi risponderò. Grazie, ciao al prossimo video! Ciao a tutti! Ciao a tutti!